Collezione Design è un progetto espositivo inclusivo del Museo Tattile Statale Omero di Ancona, sviluppato dall'architetto Fabio Fornasari con l'architetto Giacomo Scendoni. L'obiettivo è indagare la ricerca del design italiano con lo sguardo sinestetico, comprenderne il valore attraverso l'esperienza tattile e non solo visiva. A guidarci è lo sguardo ereditato da Luigi Van Vitelli, l'architetto dell'aumonima Mole, un oggetto iconico, un grande pentagono collocato sul mare. I suoi corridoi incorniciano visivamente il tempietto dedicato a San Rocco, fanno pensare che lo si possa toccare con gli occhi. Toccare e guardare è il principio che ridisegna le confezioni di tutti gli oggetti. Le scatole ci portano i differenti modi di leggere un oggetto per riconoscerne le qualità sensibili ed estetiche. Dalla tavoletta Braille che istruisce su come toccare l'oggetto al testo stampato in nero con il racconto di Chiara Alessi. Dall'icona tattile e negativo che inquadra gli sguardi dell'allestimento alla biografia sonora realizzata da Paolo Ferrario. 32 gli oggetti collocati in sequenza lungo il bancone che accompagna i visitatori a muoversi in autonomia. 32 variazioni di design che indagano gli oggetti del paesaggio italiano. 32 come le variazioni Goldberg di Bach e le variazioni di abelli di Beethoven. La forma e l'emozione. 32 gli oggetti segnalati o vincitori del compasso d'oro di Adi. Palli allenще! Ci Or mezclare il9 novembre Alla prossima Chечь è la campagna Grazie a tutti